Prima domanda è d'obbligo, ti chiedo come sei arrivato qui, se mi spieghi la trattativa e poi come sono stati i tuoi primi giorni qui in ritiro adesso a Verona? La mia trattativa è stata abbastanza breve, ho saputo un paio di giorni prima che c'era questo interesse, ho parlato con il mio procuratore, abbiamo deciso di fare questo passetto in avanti e sono arrivato in ritiro a Fiera di Primiero e ho fatto la seconda parte di ritiro con la squadra. Come ti stai trovando con mister Fabio Grosso, una figura che anche noi dobbiamo un po' imparare a conoscere, mi spieghi un po' com'è questo mister, come lavora sul campo, ti chiedo se nella tua testa ti sei già fatto alcuni paragoni perché so che hai lavorato anche con Zeman, con tanti bravi allenatori, insomma se puoi un po' raccontarmi di Fabio Grosso. Io lo conosco da poco comunque il mister, però l'impressione che mi ha fatto è stata buonissima, credo che il mister abbia la cattiveria giusta e abbia uno staff molto preparato, sicuramente ci darà una mano per fare un campionato che ci compete. Sei un veterano ormai della Serie B perché hai 200 presenze in Serie B, ti chiedo che cosa serve in Serie B per fare un campionato da protagonisti e se rivedi certe caratteristiche per farlo, poi questo campionato da protagonisti in questo gruppo, che idea ti sei fatto anche del gruppo? No, la Serie B la conosciamo un po' tutti, è un campionato lungo dove ci saranno sicuramente dei momenti difficili e lì bisognerà essere bravi a saperli superare, il gruppo sicuramente è un buon gruppo questo, da quello che ho visto, anche se sono qui da poco, sono tutti bravi ragazzi e sicuramente abbiamo voglia di dimostrare il nostro valore, non a chiacchiere ma sicuramente sul campo dando il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Spalletti, Sarri, Oddo e Zema, per ciascuno di questi vorrei cosa ti ha lasciato l'esperienza con questi allenamenti, anche seppur breve concerti. Sì, Spalletti è stato il mister che mi ha fatto sordire in Serie A quando avevo 17 anni con la Roma e non finirò mai di ringraziarlo perché è stata un'emozione bellissima. Per quanto riguarda Sarri, l'ho avuto l'ultimo mese dell'anno successivo, quando ero a Grosseto, si vedeva che era un allenatore molto preparato, preparava in ogni dettaglio la fase difensiva, poi ci parlava spesso degli avversari, comunque si vedeva che era un mister che sicuramente aveva delle qualità importanti. E Oddo e Zema? Per quanto riguarda Oddo, ho passato due anni, avevo un buon rapporto con lui, anche perché il primo anno abbiamo conquistato la Serie A, anche Oddo è un mister che mi piace giocare a pallone, e anche lui molto preparato. L'anno dopo in Serie A abbiamo fatto meno bene, però non era facile perché, come sappiamo, quando una squadra sale ci vogliono tante caratteristiche che si devono incrociare. Per quanto riguarda Zema, l'ho avuto l'anno scorso, sappiamo tutti la carriera che ha fatto, è un maestro, soprattutto nella fase offensiva, e anche nella preparazione fisica, secondo me è uno dei più bravi. Per quello che sei, per quello che ti senti di dare in campo, qual è l'allenatore, tra quelli che hai avuto, che si avvicinano di più al tuo modo di sentire il campo e con il quale ti sei sentito più realizzato come giocatore? Io mi sono trovato bene, dico la verità, con tutti gli allenatori. Si diceva che con Zeman dovevo fare un campionato importante, nella prima fase, nel primo girone, ci sono anche riuscito. Però, sinceramente, non c'è un allenatore. Io mi adeguo a tutti i tipi di gioco, perché mi piace sia spingere che difendere, quindi l'importante è impegnarsi e adeguarsi anche al gioco della squadra e del mister. Un'ultima e ti ringrazio. Il campionato, quello che non si gioca, ma quello che si parla adesso, è fatto anche di griglie. Qui c'è grandissima aspettativa dopo una stagione che si è conclusa con la retrocessione. Dovessi fare un piccolo podio delle protagoniste, adesso, a freddo e a bocce ferme, ci metti dentro il Verona d'obbligo e con chi lo metti dentro nella corsa della Serie A? Sulla carta si sanno le squadre quali sono, però poi è il campo a dimostrare chi va su. Ci sono tanti esempi anche negli anni passati, come il Carpi o magari squadre meno accreditate che poi sono arrivate fino alla fine e sono poi andate in Serie A, anche la Spalla, il Crotone. Sicuramente noi siamo un buon gruppo, abbiamo qualità importanti, però come ho detto prima bisogna insieme al mister diventare prima gruppo e poi trasformare tutti i dettami tattici e tecnici che vuole il mister e poi vediamo dove possiamo arrivare. Le qualità ci sono tutte, però bisogna dimostrarlo sul campo. Ce l'hai il nome di un paio pro al momento di antagonista del Verona nella corsa là? Giusto per identificare? Ci sono sulla carta le retrocesse, però sinceramente non saprei dire chi è la favorita. Grazie. Pedalino, Gaudi, Pedalino Radio RCS. Volevo chiederti, tu hai iniziato come esterno alto, è stato Stramazioni poi a portarti in difesa. Ecco, quello che si inizia normalmente rimane dentro, perciò questo spirito di andare avanti è una delle tue caratteristiche? Sì, io nel settore giovanile della Roma giocavo anche, diciamo, ho fatto un po' tutti i ruoli. Poi è arrivato Stramaccione che mi ha fatto diventare terzino. Sì, comunque a me piace spingere, andare sul fondo, crossare, mi piace anche attaccare. Però il terzino di oggi deve saper fare entrambi le fasi e quindi anche la fase difensiva è molto importante. Un problema che si è riscontrato a Verona, non solo quest'anno in modo particolare, ma anche negli anni passati, è sempre stata una difesa che subiva tanti gol. Normalmente si dice che è questione di amalgama e soprattutto di come il centrocampo protegge la difesa. Dalle prime giornate, dalle allenamenti che hai fatto con Fabio Grosso, hai l'impressione che ci sia una ricerca in questo senso di protezione della difesa? Hai detto bene, il mister sta lavorando anche molto su questo, sulla compattezza del gruppo, sulla solidità. Credo che questa sia una grande cosa, perché come ho detto prima, il gruppo e la solidità. Poi se si riesce anche a giocare bene, si può fare un grande campionato. Ma il punto principale secondo me è proprio questo, instaurare una solidità anche difensiva, ma proprio di squadra a livello di gruppo. L'ultima, da parte mia, proprio come ti dicevo prima, il problema dell'Ellas del Verona è stato, in tutti questi anni, sempre una difesa che subiva gol, anche se talvolta aveva un attacco che segnava molto. Ecco, ti senti perciò, in questo ruolo di difensore, un po' sotto osservazione, proprio per questo fatto storico, di questa difesa che molte volte ha imbarcato acqua. Di solito quelli a pagare sono sempre i difensori, ma credo, oramai ci sono abituato, perché è successo anche a me negli anni. Però credo che la colpa non sia sempre solo della difesa, ma sia di tutta la squadra, perché se gli attaccanti, i centrocampisti, che operano bene, anche i difensori, magari fanno meno strada o riescono ad essere più aggressivi sull'uomo. Quindi penso sia più una cosa di gruppo. Ciao Alessandro, benvenuto a Verona, Alberto Fabri, L'Ellas Live. Classi 91, Scuola Roma, sei arrivato in pochissimo tempo, hai deciso di accettare appunto l'offerta dell'Ellas Verona, come raccontavi poc'anzi, subito in campo, nel ruolo di terzino-sinistro. Tu che, quando ti hanno spostato nella fase difensiva, prediligi giocare più a destra che a sinistra. Ti dico, che differenza c'è tra giocare come terzino-destro rispetto alla corsia opposta? Sì, io ho giocato spesso a sinistra. Se dovessi proprio scegliere, è normale che, essendo comunque un destro di natura, preferisco giocare a destra. Però in Serie B ho quasi sempre giocato a sinistra, quindi non ci sono abituato. Poi questo lo vedrà il mister e niente. Per quanto riguarda a destra, magari essendo destro riesco a stoppare meglio palla, magari a fare più giocate offensive. Per quanto riguarda se gioco a sinistra, questo mi riesce un po', mi riesce meno bene. Però ho fatto anni e anni a sinistra, quindi non ci dovrebbero essere problemi. E ne sono pienamente convinto, perché ti ho seguito il ritiro e fisicamente sei integro, perfetto, anzi è un polpaccio che ha una dimensione quasi di un pallone, però battute a parte sulla tua fisicità. Sicuramente il Verona ci crede molto. E ti chiedo, Fabio Grosso, sempre durante il ritiro, è partito subito con la difesa 3. Potrebbe essere anche questa una chiave in ottica del campionato, dove anche lo stesso Crescenzi potrebbe offrire ancora di più, perché poi ti ha provato anche in tanno di centrocampo, o tu potresti essere una sorta di jolly anche? Da quando sono arrivato io, il mister ha sempre fatto una difesa a 4, poi proprio mezzala non credo, ho fatto qualche partita, però non è il mio ruolo. Però io mi adeguo a tutto. Necessità virtù, diciamo, sei disposto a tutto. Sì, sono disposto a tutto e per il bene della squadra e del gruppo, tutti noi dobbiamo essere disposti a tutto. 2021 è un contratto anche importante, insomma, tu che classe 91 appunto sei partito come uno dei giovani classe 91 appunto più importanti del panorama italiano, e dopo per strada hai avuto magari qualche intoppo, come è normale che sia. Verona può essere per te la piazza giusta per un rilancio importante nel calcio che conta, e ti chiedo che squadra sta nascendo, perché se guardiamo anche i nomi, ieri è arrivata l'ufficialità di Samuel Di Carmine, un giocatore che in Serie B può fare nettamente la differenza. Sì, per me questa è una grande piazza, non lo dico così, ma credo lo pensino tutto. Per me questo è un passo in avanti, sono strafelice di essere arrivato qui, non vedo l'ora di dimostrare comunque le mie qualità, sicuramente darò il 100% in ogni partita, in ogni allenamento, per farmi trovare pronto. Per quanto riguarda la squadra, la società, secondo me, sta lavorando bene, siamo un buon gruppo, però possiamo migliorare ancora molto, ma non proprio a livello di mentalità e di solidità di gruppo.